Marina Longo senza problemi, il tetrico di Riena vince contro il Real Fabrica 4-0, per cui ci si avvicina alla vita di questo campionato? Certo, perché ci stiamo credendo anche sempre di più e ci troviamo bene, siamo una squadra abbastanza affiatata e poi si vede il risultato, perché giochiamo, ci scambiamo palla e è un bel campionato, stiamo facendo un bel campionato. L'impegno non era ostico, però insomma serviva di cercare di avere la giusta determinazione, perché adesso siete nella parte facile, così possiamo dire, del calendario, per cui si poteva pensare anche un caldo di inizioni che però non c'è stato fino a questo momento. No, infatti stiamo tenendo duro, anche perché siamo una squadra abbastanza competitiva e niente, praticamente ci stanno provando a combatterci, però non ci riescono. Sei un po' emozionata perché per te è stato anche l'esordio in questo campionato, è stata convocata, però hai creato quest'oggi l'esordio in campionato per te, proprio hai giocato nella partita, come è stato per te scendere in campo? Beh, vabbè, già ho giocato, però non in questo campionato, vabbè, è stato abbastanza... È stato emozionante? È stato emozionante, e ancora lo sono.